Ancora rifiuti ingombranti e speciali accanto ai cassonetti della spazzatura, una vera e propria emergenza che rischia di compromettere la viabilità della strada e la percorribilità dei marciapiedi. Un materasso matrimoniale si trova infatti in prossimità dell'incrocio che interseca la via Piola Torre ed Enrico Berlinguer. Un ostacolo per i conducenti delle vetture, ma anche per i pedoni, i quali devono prestare la massima attenzione nel percorrere la strada. Accanto ai cassonetti della spazzatura vi sono anche dei vetri rotti, sfabricidi, dei rami di albero secchi e quindi facilmente infiammabili e perfino un vecchio recipiente di ethernet con dentro ancora immondizia, ma anche delle piante grasse. Di sicuro un posto poco adeguato per far crescere un arbusto. A questo si aggiunge la presenza di rifiuti ingombranti, quali un vecchio box per bambini, un televisore, dei secchi ormai arrugginiti e sacchi di cemento. Rifiuti ingombranti anche in Via dei Cosmi, dove accanto ai cassonetti giacciono indisturbati i vecchi divani e materassi che occupano buona parte del marciapiede, costringendo in questo modo i pedoni a camminare sul ciglio della strada. Cassettiere, armadi e ante occupano ancora un angolo del marciapiede di Via dei Cosmi. I casi di abbandono di rifiuti speciali e ingombranti in città sembrerebbero moltiplicarsi quotidianamente. Un fenomeno che rischia non solo di compromettere la salute dei cittadini, costretti a respirare le sostanze tossiche dei rifiuti speciali, ma anche la loro sicurezza, perché la massiccia presenza di materassi, reti e vecchi mobili diventa un ostacolo per la percorribilità dei marciapiedi e delle strade. Passerebbe maggiore attenzione nel preservare quello che di norma dovrebbe essere uno spazio adibito all'uso esclusivo dei pedoni e dei conducenti, evitando di abbandonare dei rifiuti che di norma andrebbero raccolti negli appositi centri quale quello presente in contrada Cammarella. Maggiore rispetto delle regole del vivere civile, ma anche più controlli sul territorio e ciò che auspicano i residenti delle zone interessate al disagio. Maggiore rispetto alle donne 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 donne